La cucina italiana di Orogel presenta Minestrone Leggerezza con il gusto della zucca e tante buone verdure, solo 16 calorie per 100 grammi. Minestrone Leggerezza, bontà naturale. Orogel è da sposare. Nuovo Fiat Scudo, l'auto che lavora. I materiali che getti via oggi vanno a finire nel futuro di tuo figlio, ma se tu separi in casa la plastica, la carta, il vetro, l'alluminio, l'acciaio, il legno, ci aiuterai a dargli una nuova vita, perché con AI siamo noi e voi insieme, insieme, per un futuro più leggero, senza il peso dei rifiuti. Opel Agila con nuovo motore 1.3 Comorail di ultima generazione, Euro 4 da 70 cavalli, fino a 900 chilometri di shopping con un pieno. Gamma Agila da 8.300 euro e in più anticipo zero e tasto zero in tre anni. Prezzi bloccati fino a sabato 31. Riprendiamo l'attività. L'attività, è qua l'attività. Arubami che sveglia. È un artista del futto. Siamo dell'Interpol, vogliamo che tu apri quel cavo e che ci dia la possibilità di incastrare Jack Fortuna. Dobbiamo entrare nel cavo, centriamo. Dobbiamo prendere i diamanti e il database, li prendiamo. Un uomo come lei non ci proverebbe di certo. Ci proverei, ci proverei. Uno che ha la faccia di uno che si fa fregare. Fino a quando? In un colpo solo prendete i diamanti, Fortuna e noi. Cristian De Sica, Brando De Sica e Paolo Conticini in Attenti a quei tre. Frena, accelera, frena! Mettetevi d'accordo! Prossimamente su Rai 1. 3, 2, 1... 1954, nasce la TV. 1977, arriva il colore. 2004, la televisione diventa digitale. Si apre una nuova era. Più canali Rai, più informazione, più scelta. Da casa potremo dialogare con le trasmissioni delle tre reti, scoprire nuove possibilità, ma soprattutto interagire con istituzioni e servizi. Il digitale Rai, un'offerta di qualità, accessibile a tutti, con un semplice decoder. Rai, l'era digitale è cominciata.